Soucheng Itali, Corso Intensivo d'Italiano Soucheng Itali è una delle più belle fontane di Roma e fra le più celebre del mondo. Secondo una tradizione popolare, i turisti che gettano una moneta nella fontana sono sicuri di tornare ancora a Roma. Vocabolario, simbolo, duemila, spettacolo, pubblico, opera, vespasiano, tito, metro, costruito, secondo, tradizione, popolare, gettare, moneta. Sicuro